Andrea Tosti Una forma comunicativa totalmente indipendente dal romanzo oggi Noi sappiamo che comunque il tuo lavoro è questo Cioè parlare comunque di grafica Però un romanzo così grande C'è tanto da raccontare in questo libro Non ti chiediamo un sunto Però qual è la cosa più interessante che sei riuscita a trovare E soprattutto a raccontare a chi leggerà questo libro? Sì, in effetti un lavoro di questo genere è sicuramente difficile da riassumere La cosa più importante forse è raccontare come il fumetto Si è riuscito a creare una forma comunicativa e narrativa per immagini Che si appoggia solo secondariamente sulla parola E quindi una forma d'arte o di comunicazione come la vogliamo chiamare Completamente nuova Che si astrae, si rende indipendente dalla tradizione letteraria Per come siamo abituati a conoscerla Invece parliamo dei tuoi fumetti I tuoi fumetti, veramente sei cresciuto con un tipo di fumetto Poi nel tempo hai visto l'evoluzione, il cambiamento di questi fumetti Che poi sicuramente poi ne parlerai Ma comunque vada Qual è il fumetto che ti rimane più impresso per te E quale attualmente ti interessa di più? Beh io naturalmente sono cresciuto con tutti i fumetti Con cui crescono i bambini della mia generazione Quindi con Topolino, i primi fumetti Bonelli, Tex, Dylan Dog Poi naturalmente i gusti si evolvono, si cresce Si cercano prodotti non per forza più maturi Ma magari più complessi Beh poi non posso fare a meno di citare i grandi classici Che mi hanno segnato come hanno segnato tanti della mia generazione Come Watchmen, Ritorno del Cavaliere Oscuro, Mouse È veramente difficile scegliere solo un titolo Motivo di poter scrivere questo libro Qual è stato il tuo obiettivo scrivendo questo libro? Beh gli obiettivi sono stati principalmente due Il primo è analizzare un formato del fumetto Che adesso sta avendo molto successo Su cui si è scritto molto poco E che rappresenta un oggetto culturale molto molto importante Nella nostra società di oggi L'altro è che forse da un po' di anni in Italia Mancava uno studio ragionato, stratificato e multidisciplinare sul fumetto E diciamo il mio voleva offrirsi come un punto di ripartenza per gli studi sul settore L'ultima domanda Prendiamo una pagina Abbiamo aperto una pagina del libro E parla di classificare Classificare A questo punto ci spieghi Beh, classificare il graphic novel Significa capire cosa è il graphic novel Nel senso che il graphic novel è un modo che oggi si usa per Diciamo descrivere un fumetto adulto Maggiorenne Adatto ad un pubblico più smaliziato Più consapevole Più vicino a delle esigenze culturali complesse e articolate Che poi in realtà sotto sotto andando a scavare Si rivela essere il solito fumetto che si veste sotto altre forme E queste forme molto spesso sono la forma libro Noi ci ricordiamo gli albi di Topolino Gli albi della Bonelli O quelli dei supereroi Che erano una forma diversa Ai fumetti che siamo abituati a vedere oggi in Liberia Perché vediamo molto spesso fumetti di centinaia di pagine Con un appeal Come dire Culturalmente accettabile Che si cominciano a trovare in concorso Nei principali premi letterari italiani Cercare di classificare il graphic novel Significa capire cosa Non tanto cosa è il graphic novel Ma come il graphic novel cerca di vendersi E che cosa lo differenzia dal fumetto Se davvero qualche differenza c'è Grazie a tutti Grazie a tutti.